Adesso ce la conferma. La grande croce in ferro eretta tra le vie Giovanni Battista Vico e Guglielmo Marconi nel quartiere Grassura a Biancavilla è stata posta su quella roccia in Pietralavica 100 anni fa ed esattamente il 5 giugno del 1921. Videostar è in grado oggi di mostrare in esclusiva e per la prima volta il documento che attesta l'avvenuta allocazione della croce e la motivazione. Il 4 giugno scorso Star News aveva mostrato un documento firmato dall'allora sindaco facente funzione Vincenzo Vitellino Piccione con il quale autorizzava il 4 giugno del 1921 il canonico Vito Piccione prevosto della collegiata all'installazione della croce. Sino ad oggi a distanza di 100 anni però non c'è stata alcuna certezza della data esatta dell'erezione della croce e per quale motivo fosse stata installata. Tante le ipotesi avanzate anche dall'attuale prevosto parroco della Chiesa Madre Don Agrippino Salerno ma nulla di accertato come detto. Oggi la nostra redazione è in grado di attestare sia la data esatta sia la motivazione. Ebbene la grande croce in ferro battuto è stata eretta il 5 giugno 1921 il giorno dopo dell'avvenuta autorizzazione da parte del Comune a conclusione dei festeggiamenti giubilari per il 25esimo anniversario di sacerdozio del canonico Placido Caselli iniziatore e fondatore del piccolo seminario arcivescovile Sacratissimo Cuore di Gesù di Biancavilla. Ecco il documento scritto a mano 100 anni fa tratto dal primo volume del libro dei Ministeri Apostolici dal 1920 al 1964 della Comunità dei Padri Passionisti di Mascaluccia dove si evince questo. In Biancavilla, Catania, fu data una missioncella di otto giorni dei padri passionisti Giacomo e Gabriele da Borgetto quest'ultimo, assistiti da Fra Benedetto. L'ottimo e degno signor canonico Caselli, celebrando le sue nozze d'argento sacerdotali, volle fare un regalo tutto spirituale ai suoi concittadini, i quali lì meritamente apprezzano la santa ente fessa sua opera sacerdotale, con una santa missione nella vasta e magnifica chiesa parrocchiale, fu un affollarsi sempre più crescente, specialmente nel pomeriggio, ad ascoltare la Divina Parola. Il frutto spirituale fu validissimo specialmente nelle donne, che in massa si accostarono continuamente ai Santi Sacramenti e far confessare le quali avemmo costantemente il valido aiuto di quella ventina di sacerdoti del paese. Gli uomini non furono tanti, perché nel colmo dei lavori campestri della falciatura del fieno e della mietitura del grano, ma pur anch'essi in numero discreto, fatte due splendide e commoventi comunioni generali, si chiuse la sera del 5 giugno 1921, conne predica di circostanza, benedizione papale e impianto della bella croce in ferro, lungo la ferrovia, in mezzo all'entusiasmo religioso di tutta quella buona popolazione. Quindi, sulla base di questo documento che racconta la cronaca di quel tempo, narrando parte delle celebrazioni per il 25esimo del canonico Caselli, possiamo dunque affermare che la grande croce fu posta proprio in occasione del giubileo sacerdotale del rettore del piccolo seminario. Ecco perché i rettori, che nel tempo si sono succeduti, si sono sempre prodigati alla cura dell'opera, mantenendola sempre in buone condizioni. Infatti, nel corso degli anni, è stata più volte oggetto di interventi di consolidamento. Su input del nostro primo servizio, andato in onda il 4 giugno scorso, il prevosto Don Agrippino Salerno ha lanciato dal nostro microfono un appello al comune affinché l'aria attorno alla croce possa essere riqualificata e resa più decorosa. Ed è stato lo stesso sacerdote, inoltre, a farsi promotore di applicare una eventuale epigrafe evocativa. Adesso, grazie alla ricerca storica effettuata da Videostar, avendo avuto la certezza in merito a data e motivazione dell'installazione della croce, la targa commemorativa può essere realizzata e installata a perenne memoria, con l'augurio che l'appello possa essere recepito dal comune.